Volevo sottolineare nel comune di Aidone, che è un piccolo paese, se non ricordo io, dove c'è un bellissimo ritrovato archeologico, la famosa Venere di Morgantina. Aidone è Morgantina. Faccio un po' di pubblicità turistica. La mia domanda è quanto in cosa lei si sente siciliano e che contributo di sicilianità darà alla Corte? E poi guardando al dibattito adesso sull'autonomia differenziata, da siciliano, dal suo punto di vista, lei lo guarda con preoccupazione oppure ritiene che potrebbe essere un'occasione? Ma dunque, io sono nato in provincia di Enna, sono cresciuto a Catania, ma abito dal 1970 in Emilia, quindi, quanto tempo? 53 anni, 53 anni Emilia. Devo dire che ho preso più per quanto riguarda la politica dall'Emilia Romagna che non dalla Sicilia, ahimè. Emilia Romagna che ha realizzato un tessuto di autonomia locale molto forte, che ha sostenuto un riformismo ben presente, ben solido. E quindi, l'efficienza delle istituzioni, l'ho apprezzata soprattutto in Emilia Romagna. Non posso dire altrettanto per la mia Sicilia, dove tuttora c'è il voto segreto nelle votazioni, dove c'è un premio di maggioranza un po' sbilenco, eccetera. Per quanto riguarda il, lei diceva, si riferiva all'autonomia differenziata. Anche questo, non mi tenti, è una scelta politica che appartiene tutta quanta alla politica. Noi abbiamo già un sistema di autonomia differenziata, con la regione di statuto speciale. La regione di statuto speciale sono un'autonomia differenziata, per motivi che sono stati voluti dal Costituente. Ora, che sia un buon sistema, oppure un sistema da rifiutare, è una scelta politica che appartiene al politico, quindi che appartiene all'assemblea che sono destinata a questo scopo, che devono occuparsene. Ed eventualmente anche al corpo elettorale, perché se non si dovesse raggiungere la maggioranza dei due terzi, se ne occuperà il corpo elettorale. Quindi non ho un parere, non so nulla, sull'autonomia differenziata. Grazie. 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 Grazie.